Ciao a tutti ragazzi e sono qui per parlarvi tramite schermata video una video schermata tra cui per farvi vedere il setup base da comprare da comprare da comprare praticamente per iniziare a giocare a softeer per iniziare a giocare a softeer per iniziare a giocare a softeer di conseguenza questo è il setup base quindi praticamente spesa minima 200 euro allora cominciamo allora la prima cosa la prima pressione la prima è comprare una protezione ovvero una maschera da softeer ovvero vi consiglio vi consiglio questa qua questo modello qua costa solo 10 euro costa un bel prezzo di 10 euro questa maschera qua vi consiglio questa costa 10 euro è praticamente una visiera per il sole che si può rimuovere poi c'ha un silenzio molto bella questa praticamente ha la rete invece di delle lenti in pezzi che la sono in vetro temperato però ovviamente è molto bella poi iniziare è un consiglio che vi do la maschera poi se non volete se non volete proprio se non volete proprio la maschera perché vi dia fastidio in faccia queste cose qua no è un minimo di protezione perché vi protegge per davvero quindi se voi volete proprio una protezione se volete proprio non volete la maschera comprate semplicemente degli occhiali che costano anche essi al prezzo di 10 euro ma a rete perché perché a rete sono meglio perché a rete perché ovviamente non avete nessun problema di appannamento però inoltre d'estate con il sudore si appannano quindi in conseguenza vi consiglio sempre a rete 10 euro passiamo alla seconda parte è la mimetica ragazzi non comprate le mimetiche allora le mimetiche sono non comprate le cinesate della royal che stanno che stanno molto di più ma praticamente che so pure dei stracci comunque comprate mimetiche originali che costano addirittura dipende quali no comprate queste della royal perché fanno veramente cagare quindi comprate una multicam per esempio che ne so comprate per esempio una flecta quello che volete ma non comprate i stracci ma comprate queste allora ci sono svariati modelli di mimetiche questa ovviamente è simile alla divisa militare ma probabilmente non si può al software ovviamente in Italia è tassativamente vietato comprare la tuta dell'esercito italiano originale quindi deve essere di un altro modello perché poi inoltre non si può e tassativamente vietato comprare al software usare per giocare al software le divise ufficiali delle forze dell'ordine tipo polizia polizia municipale e carabinieri vietate anche quelle quindi comprate le mimetiche queste qui un pezzo di una buona mimetica costa tra i 15 e i 50 euro a sbizzarrire con i prezzi e poi come terza ovviamente non può mancare ovviamente è la nostra replica allora io vi consiglio di iniziare con i modelli low cost perché i modelli low cost costano poco sono più economici quindi vi consiglio un low cost perché a me tra i low cost si dividono in due categorie low cost cinesi e low cost di marca allora i low cost cinesi sarebbero quelli i low cost cinesi sarebbero quelli quelli lì della tipo i low cost cinesi sono questi qua che vi sto per nominare tipo che sono quelli della ginkong e quelli della cima mentre i low cost di marca sarebbero più o meno gng ics e così via ma ragazzi ovviamente stiamo sulla spesa spesa ovviamente questo setup base spesa minima 200 euro quindi di conseguenza di conseguenza allora io vi consiglio ovviamente vi sconsiglio ovviamente i fucili i fucili in abs praticamente non comprare quelle cagate lì da 40 70 euro e lì proprio full plastic ma comprare i low cost cinesi io vi consiglio i low cost cinesi perché praticamente perché funzionano perché praticamente sono meno costosi e quindi di conseguenza potete portarveli tranquillamente poi inoltre vi danno vi danno praticamente una batteria un caricabatteria compreso mentre invece i low cost di marca ragazzi perché non comprare i low cost di marca perché poi dovete praticamente fare delle spese aggiuntive per poi comprarvi a parte la batteria e il caricabatteria quindi di conseguenza vi consiglio i low cost cinesi che già è tutto compreso quindi di conseguenza ci sono però io vi do però ovviamente un modello in particolare ve lo un modello in particolare ve lo consiglio a tutti quanti un modello particolare di fucili è questo qua che vi consiglio a tutti di comprarlo è questo qua aspettate ovvero ovvero ragazzi siete pronti aspetta che ve lo ovvero 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 il G36C della Ging Kong perché vi consiglio questo perché è un fucile elaborato molto bene il prezzo è sui 90 e 100 euro questo fucile è la migliore mia soluzione per tutti perché è molto economico è il preferito di tutti che vogliono il miglior fucile low cost di tutti che vogliono iniziare a giocare perché ha un prezzo basso un prezzo dai 90 ai 100 euro poi dipende da quali negozi si andate a comprare il prezzo è quello lì dai 90 ai 100 euro ovviamente ricordatevi ragazzi per i low cost una replica low cost da software costa attorno dai 90 fino ai 140 euro mi raccomando poi vi ho fatto vedere in recensione guarda da qui queste sono quelle tre da cui per un setup base dovete avere occhiali o maschera mimetica e ask e la replica ovviamente la replica per andare a giocare bene questo è tutto noi ci vediamo alla seconda parte del video per un setup base completo ciao ragazzi